Buongiorno a tutti, io sono Marco Debianchi, sono un Finops Architect di AWS e oggi sono qui per parlarvi di gestione dei costi, di allocazione dei costi e come allocare meglio i costi in cloud può portare vantaggio al proprio business. Oggi sono qui con Mario Veltini di Inamirial che porterà direttamente l'esperienza di Inamirial. Prima di cominciare, solo un accenno per seguire tutte le sessioni della giornata per scoprire quali altre sessioni ci sono in programma, potete scaricare l'app dell'evento e scorrere l'agenda. Detto questo, possiamo cominciare. Immaginate di essere un Finops Analyst, IT Cost Analyst, insomma una qualsiasi figura che si occupa di gestione dei costi del cloud e che ad esempio risponde al CTO. A fine anno avete due opzioni, potete decidere se dire che avete risparmiato il 10% dei vostri costi su una fattura da 10 milioni, quindi potete dire che avete risparmiato un milione nell'anno oppure potete dire che avete abbassato del 10% il costo per utente. Quanti preferirebbero la prima opzione? Quanti preferirebbero dire che hanno risparmiato un milione di dollari a fine anno? Ok. Quanti preferirebbero invece dire che hanno risparmiato il 10% sul costo per utente? Ok, perfetto, grazie. Io personalmente il 99% delle volte preferisco la seconda e oggi sono qui per spiegarvi perché. Vediamo quindi di cosa parleremo oggi. Oggi parleremo di tre cose. Parleremo di perché è importante allocare correttamente i costi. Parleremo di come si possono decifrare i costi in valore di business una volta che sono stati correttamente allocati. E parleremo di cosa delle metriche di business relazionate ai costi ci possono rivelare. E soprattutto come mettere a terra queste metriche, come visualizzarle. Partiamo appunto dal ruolo della parte di allocazione dei costi. Perché è importante allocare i costi correttamente. Come ha ricordato Werner Vogels durante il reinvent dell'ultimo anno, durante il suo keynote, nei team di prodotto attuali ogni scelta del team di prodotto è anche una scelta di acquisto. E' anche un acquisto vero e proprio. Pensate banalmente al fatto che si può accendere un EC2 solo con due clic dalla console. In quel momento si stanno spendendo i soldi dell'azienda. Perché è importante questo passaggio? Perché è importante il fatto che vengano spesi dei soldi di cui non si dà visibilità necessariamente. Questo è importante perché negli ultimi anni è cambiato quello che è il modello di approvvigionamento delle risorse. Chi è nell'ambiente da diversi anni magari lo sa, piuttosto che chi è nato in un ambiente cloud native, il modello fino a qualche anno fa, prima del cloud, era qualcosa di simile. Quindi un modello a silos, molto segregati, con lunghi cicli per il procurement delle risorse, dove la visibilità passava per forza di cose da finance. Il team di prodotto richiedeva l'infrastruttura. Questa richiesta di acquisto passava da finance, che per forza quindi aveva visibilità, e poi questa richiesta di acquisto passava dall'acquisto vero e proprio, dalla configurazione, e tornava indietro al team di prodotto configurato e pronto per essere utilizzato. Questo col cloud viene meno, perché il ciclo di approvvigionamento è molto più semplice, però quello che deve cambiare è il modello con cui si opera per dare comunque a finance e le altre parti dell'azienda quella visibilità di cui hanno bisogno per operare. In particolare il modello dovrebbe cambiare in qualcosa più come questo. Quindi un modello dove non ci sono quei silos segregati a separare le diverse aree aziendali, ma piuttosto un approccio collaborativo, un approccio dove le responsabilità sono condivise tra un team centrale di piattaforma e un team di prodotto, che sarà responsabile, per esempio, per effettivamente taggare le risorse o per allocare i costi direttamente, mentre finance avrà le classiche responsabilità del reparto più finanziario e andrà a gestire veramente quei costi. Come, detto che è appunto importante che cambi il modello verso un approccio più collaborativo, come si possono effettivamente allocare i costi all'interno di AWS in maniera efficace? Sicuramente la prima soluzione, il primo strumento, è quella che nei white paper di AWS viene definita come multi-account strategy. Quindi segregare logicamente i propri workload, separandoli in diversi account di AWS, piuttosto che tenerli in pochi account limitati. Questo permette di avere una prima segregazione dei costi, già ad alto livello, e che permette appunto quindi di segregarli utilizzando strumenti come l'organizational unit, che altro non sono che a loro volta dei gruppi di account. Questo permette quindi di organizzare ad esempio le proprie business unit, i propri dipartimenti, come organizational unit, e a quel punto utilizzare gli account per allocare le risorse dei diversi applicativi che si possono avere nelle relative business unit. Una volta implementata la multi-account strategy, per avere ancora più granularità sulla visibilità dei costi, a quel punto si può implementare il tagging. Il tagging è un tema molto complesso, che può portare appunto visibilità in maniera più granulare, ma che è sicuramente complesso da implementare. La complessità dei tag peraltro è esponenziale. Implementare un tag su tutte le risorse può avere un livello di difficoltà, implementarne N ha un altro livello di difficoltà. Il livello di automazione richiesto è sempre più alto. Vi ho lasciato in alto il QR che porta il white paper sul tagging, che contiene tutte le best practice sulla parte di automazione, quali tag andrebbero implementati, quali risorse supportano i tag, e insomma tutte le informazioni sul tagging. In particolare, i tag che a noi interessano sono quelli che vengono definiti cost allocation tag, quindi quei tag che possono definire un cost center, ma soprattutto che, una volta attivati, finiscono all'interno di quello che è l'IWS Cost and Usage Report. Il Cost and Usage Report è un export dei vostri costi a livello molto dettagliato e questi tag possono finire all'interno del vostro export, così da essere analizzati e da aggregare i costi secondo le vostre logiche, quindi secondo l'ambiente, secondo il progetto, il cost center, o tutti i tag che potete andare a definire. Una volta però allocati i costi correttamente all'interno dei propri cost center, come si può decifrare quello che è il costo in valore di business? Come si può capire qual è il valore che produce quel costo? Per fare questo, implementiamo quelle che si chiamano metriche unitarie, o unit metric, o comunque metriche di business. Come si creano queste metriche? Queste metriche si creano con sostanzialmente una divisione tra la spesa di AWS e mettendo al denominatore quello che è il driver della domanda delle risorse in cloud. Pensiamo banalmente a un SaaS che ha diversi utenti, dove all'aumentare degli utenti aumenta l'utilizzo delle risorse in cloud, in quel caso, mettendo la spesa di AWS diviso il numero di utenti, si ottiene quello che è il costo per utente e questa metrica appunto inizia a parlare. Perché dico parlare? Cosa abilita questa metrica? Immaginate appunto di avere a disposizione per il vostro SaaS il vostro costo per utente. È una metrica che abilita la collaborazione di cui parlavo prima. Prima dicevo che i team di finance devono collaborare con i team di ingegneria, con i team di prodotto. Avere a disposizione una metrica come il costo per utente, misurata, visualizzata centralmente, permette di avere uno strumento per far comunicare le diverse aree aziendali e a quel punto non ragionare più in termini di il costo di AWS, il costo di EKS è salito, come facciamo, ma parlare in termini di costo per utente o per quella che è la metrica del settore di riferimento di quello che fate. Dopo vedremo alcuni esempi. Detto questo, come dovrebbe andare un aggiornito cloud nel momento in cui queste metriche sono implementate, sono implementate correttamente e l'utilizzo di AWS è corretto? Come vedete, sull'asse delle X, quello che sale e che cresce è l'utilizzo di AWS nel tempo. Quindi l'utilizzo delle risorse aumenta, tendenzialmente dovrebbe aumentare anche il costo, ma questo non è detto, ma quello che interessa a noi è che nel tempo il costo unitario, quindi quel costo per utente che citavo, diminuisca. Come può avvenire questa cosa? Come può diminuire il costo per utente, aumentare l'utilizzo della piattaforma senza commenti nei costi? Questo perché si può modernizzare quella che è un'applicazione per raggiungere un risultato del genere. Pensate banalmente all'adozione di servizi serverless che permette di incrementare l'utilizzo delle risorse, ma dall'altro lato di abbattere i costi. Il risultato sarà un grafico del genere, quindi dove l'utilizzo di AWS cresce e il costo per utente o per la vostra metrica diminuisce. Quali sono alcuni esempi di queste metriche per quelle che possono essere le diverse, diciamo, diversi settori? Come dicevo prima, sicuramente queste metriche devono essere quelle che guidano l'utilizzo delle risorse in cloud. Quindi deve esserci un rapporto tra la vostra metrica e l'utilizzo delle risorse. All'aumentare della vostra metrica aumenta l'utilizzo delle risorse, al diminuire della vostra metrica diminuisce l'utilizzo delle risorse. Questo è importante. Alcuni esempi di queste metriche, ad esempio, possono essere, come dicevo prima, il numero di utenti su una base temporale, oppure pensando al settore media, per esempio i secondi di video streammati o i giga di video streammati, piuttosto che il click su delle pagine web, piuttosto che degli ordini processati da un e-commerce online. Insomma, ci sono diverse metriche che possono essere adottate per diversi settori. L'importante è misurarle e correlarle alla relativa spesa che è AWS. Una volta che si hanno queste metriche a disposizione, come si può utilizzarle? Cosa fanno queste metriche? Cosa portano? Portano a una differenza sostanziale. Portano a capire come un workload può essere deliberato versus essere deliberato efficacemente. Quindi utilizzando il minor spreco possibile. Prendiamo un esempio dove c'è uno SLA di quattro ore e un classico batch che gira a mezzanotte che deve deliberare qualcosa, che ha bisogno di tante risorse compute sotto. Un esempio per gestire questo workload può essere ad esempio utilizzando un'istanza C6G12XLarge all'interno delle 300 disponibili che uno sviluppatore può essere per trovare a scegliere. Utilizzare ad esempio un IBS IO1, quindi un SSD con bassissima latenza, per la parte di storage. E infine SNS per la notifica e deliberare il workload. Questo workload finisce attorno alle due e mezza, ha rispettato le quattro ore, ma in quello che era un grafico come il precedente sul costo unitario, si avrebbe un picco in queste due ore e un vuoto in quelle successive. Questa architettura costa molto di più di una seconda che potrebbe essere fatta con le stesse risorse, quindi sempre con i dati disponibili a mezzanotte. Al posto che avere una C6G12XLarge ci può essere una C6G2XLarge, quindi un'istanza molto più piccola, un disco IBS GP3, quindi un general purpose e non un SSD a bassa latenza, sempre SNS per la parte di notifica. Questo workload viene deliberato alle tre e mezza, quindi sempre rispettando le quattro ore di SLA, ma in maniera molto più efficiente. Rimane efficace, ma l'efficienza è aumentata. Nel grafico di prima del costo per la metrica unitaria, nella seconda opzione avremo una linea molto più lineare, che non raggiunge il picco che avrebbe il primo tra mezzanotte e l'una e mezza. E appunto avremmo a disposizione un'architettura che ci mette più tempo che rispetto allo SLA, ma che costa di meno. Un altro esempio di come possono essere utilizzate queste metriche è ad esempio sul forecast, che so bene, lo vedo essere un tema molto scottante. Immaginate di avere il vostro SAS che riceve ad esempio un milione e mezzo di chiamate API al mese e costa 13.750 dollari al mese. Fatto io il calcolo, vi costa poco meno di un centesimo a chiamata API, un centesimo di dollari. I vostri costi possono essere divisi tra i diversi servizi, AWS, quindi EC2, S3, dividendo il costo per il numero di chiamate API si ottiene anche il costo relativo al servizio e a questo punto diviene molto facile rispondere alla domanda del business di quando arriva e dice ho un potenziale nuovo cliente, un cliente da 2 milioni di chiamate al mese, quanto ci costerà onboardare questo nuovo cliente? E lì si dovrebbe passare a tutta la stima del servizio, dei costi AWS, del AWS Calculator, avendo a disposizione queste metriche basta una semplice moltiplicazione dove si prende proprio il costo medio per la chiamata API, quindi quei 0,0091 centesimi di dollaro, moltiplicato per i 2 milioni e si risponde tranquillamente al business che un nuovo cliente da 2 milioni di chiamate al mese costerebbe 18.200 dollari. Detto che queste sono solo alcune dei vantaggi di queste metriche e adesso Mario Veltini di Lamirial vi parlerà di come effettivamente Lamirial le ha utilizzate, io vi parlo di come si possono mettere a terra, quindi come si possono visualizzare queste metriche. Queste metriche si possono visualizzare grazie a un tool chiamato Cloud Intelligent Dashboard. Le Cloud Intelligent Dashboard sono un framework open source sviluppato e mantenuto da persone all'interno di AWS che sostanzialmente, altro non è che un set di dashboard pre-configurate che si possono deployare facilmente, adesso ne parleremo, e che permettono di raggiungere un'eccellenza operativa in termini di costi. Quali sono le caratteristiche principali di queste dashboard e di questo framework? Queste dashboard sono semplici da utilizzare, da installare, perché è tutto infrastructure as code alla base, c'è una versione CloudFormation, c'è una versione Terraform, si possono deployare con un deployment time per quelle, diciamo, foundational di circa 30 minuti, quindi sono semplici da installare, sono sicure perché i dati sui costi, sul pricing, non usciranno mai dai vostri accanti AWS, quindi non andranno mai in mano a un fornitore di terze parti, sono granulari, perché riescono ad arrivare al livello della risorsa, quindi riescono a far vedere il resource ID e quale risorsa ha speso quanto, e infine sono efficienti in termini di costi, essendo delle dashboard che fanno cost management, non potevano costare tanto ovviamente, non hanno alcun costo di licenza, e si pagano solo le risorse AWS che stanno, diciamo, sotto il cofano, e adesso le vediamo. Quali sono queste dashboard, come sono costruite? Qua ne abbiamo sei, adesso ve ne parlo, grazie alla versione 5 che abbiamo rilasciato poco fa, in realtà adesso ne abbiamo una dozzina di dashboard disponibili per i diversi casi d'uso, non starò qua a elencarvele tutte, se no non finiremmo più, qua però, quello che si capisce è che le dashboard sono fatte per avere diversi livelli di audience. Se noi prendiamo le dashboard da sinistra verso destra, ad esempio ci sono la cost intelligent dashboard e la KPI dashboard, che sono a un livello molto più alto, a livello executive, ad esempio non arrivano al livello dell'ID della risorsa, e quindi hanno come target persone che stanno un po' più, appunto, in alto e che hanno bisogno di quel livello, diciamo, un po' più astratto di visualizzazione dei costi, e che va benissimo, ad esempio, anche per reparti come finance. Successivamente si parte, si parla della dashboard Kudos. La Kudos, invece, ad esempio, è una dashboard che ha un livello di granularità maggiore, che arriva al livello dell'ID della risorsa, e a quel punto quella dashboard va bene per più scopi per usarla al team di finance. Comunque, ma possono iniziare a usare questa dashboard anche i team di prodotto, che al posto che utilizzare Cost Explorer, a quel punto utilizzeranno questo tool per essere autonomi sulla parte di analisi dei costi ed avere più usibilità. A fianco a queste dashboard di livello foundational ci possono essere delle dashboard più avanzate, qua riportiamo, ad esempio, Compute Optimizer piuttosto che Trusted Advisor, quindi le dashboard di livello avanzato permettono anche di ricevere dati da altre sorgenti AWS, altri servizi, come appunto Compute Optimizer Trusted Advisor, non il solo Cost and Usage Report, mergiare questi dati e visualizzarli tutti in una volta. Come sono fatte queste dashboard sotto il cofano? Perché permettono di vedere le metriche di business di cui parlavo prima? Sostanzialmente le dashboard possono avere tre livelli di sorgente di dati. Il primo per le dashboard foundational appunto è il Cost and Usage Report, quindi i vostri costi, i vostri consumi. Il secondo per le dashboard avanzate possono essere servizi di AWS come Compute Optimizer e Trusted Advisor. Quelle infine che chiamiamo additional che sono dashboard che si possono costruire custom on top a questo framework, ad esempio possono ricevere anche dati di terze parti, quindi anche i dati di business che menzionavo prima. Quindi se pensiamo al numero chiamato API si possono aggiungere a queste sorgenti di dati e analizzarli tutti assieme. Perché? Perché questi dati vengono aggregati all'interno di un data lake completamente automatizzato grazie all'infrastructure code di cui vi parlavo prima. Questi dati vengono aggregati in diversi bucket S3 analizzati sostanzialmente tramite Atina che va a creare delle view visualizzati tramite QuickSight e QuickSight poi li rende disponibili a quelli che sono i diversi decision maker. Quindi le dashboard appunto permettono poi di avere queste view preconfigurate e disponibili per le diverse figure dell'azienda. Detto questo detto che questo e come sono fatte le dashboard lascio spazio a Mario Veltini di Namirial che vi spiegherà come Namirial ha utilizzato queste dashboard. Grazie. Grazie Marco vorrei iniziare con una domanda quanti di voi sanno esattamente quanto costa produrre una lattina di Coca-Cola? Tranquilli nemmeno io lo so ovviamente però so benissimo quanto costa Anamirial produrre o gestire un singolo gigabyte di conservazione digitale. ma facciamo un passo indietro che cos'è Namirial perché Namirial è molto complessa è un'azienda che è nata circa 20 anni fa e che negli ultimi anni si è sviluppata tantissimo anche grazie a una serie di acquisizioni che abbiamo fatto prima in Europa prima in Italia poi in Europa e adesso anche fuori dall'Europa. Siamo circa 900 employee in Namirial e di questi 900 ci sono decine e decine di team diversi che erano stati gestiti in maniera diversa e ognuno di questi può avere uno o più prodotti che gestiscono che viene portato in market. Giusto per darvi qualche idea vi dicevo siamo circa 900 dipendenti 900 employee gestiamo qualche miliardo di transazioni all'anno questi sono i dati del 2023 e abbiamo nel nostro sistema di conservazione quello che noi chiamiamo LTA Long Term Archive stiamo gestendo attualmente circa 5 miliardi di documenti vi parlo spesso di LTA perché io provengo da una di quelle aziende che è stata acquisita qualche anno fa il cui core business era proprio LTA e per questo abbiamo utilizzato questo servizio per partire con la nostra cloud con la cloud FinOps quindi con la FinOps estesa al cloud utilizzando i servizi Namirial inoltre stiamo o state il nostro cliente sta anche salvando delle risorse naturali perché immaginatevi 5 miliardi di documenti con una media di 10-15 pagine ognuno potete immaginare quanta quantità di carta di risorse di trasporto e di CO2 che ci vogliono per gestirli attualmente è un sistema informatizzato che utilizza risorse AWS e che può scalare in maniera quasi infinita ma la Mirial con tutte queste aziende che sono state acquisite per aumentare un pochino la complessità ancora con queste aziende ha quindi coperto dall'identità fino ad arrivare al documento l'identità per noi significa onboarding quindi riconoscimento delle persone login quindi utilizzo di login in maniera strong tipo strong authentication immaginate lo speed siamo uno degli operatori speed nel momento in cui l'utente ha fatto l'onboarding ha fatto il login può iniziare a firmare i documenti con qualsiasi tipo di firma stiamo parlando di firme semplici click to sign fino ad arrivare alle firme utilizzando le chiavette USB le classiche chiavette USB inoltre i documenti possono essere anche marcati temporalmente utilizzando il time stamping quando poi il documento è stato prodotto dall'utente loggato dall'utente che ha fatto l'onboarding questo documento normalmente non muore lì viene scambiato con qualcun altro uno dei modi più semplici che abbiamo in Italia è utilizzare la PEC che si estenderà al prodotto REM nel futuro e la certified communication che sta già funzionando fuori dall'Italia alla fine i documenti possono essere ovviamente ingestiti inseriti all'interno di un sistema documentale e alla fine proprio la morte diciamo del documento il riposo finale del documento è la conservazione digitale ecco la conservazione digitale è qualcosa appunto che vi dicevo di cui voglio parlarvi un pochino di più perché lì abbiamo delle metriche abbiamo dei numeri abbiamo un sistema che vive da un po' di anni dal 2014 ovviamente con evoluzioni continue per darvi qualche altro numero e per farvi ancora di più capire la complessità che abbiamo c'è a complicare ulteriormente le cose c'è messa anche la crescita fortunatamente per alcuni nostri servizi abbiamo avuto una crescita di tre volte tra il 2022 e il 2023 ciò significa che siamo passati per la conservazione da un miliardo e qualcosa di documenti a cinque miliardi e qualcosa di documenti in un solo anno e appunto gestiamo centinaia di migliaia di clienti data questa premessa quindi una grande una grande una grande insieme di team un grande insieme di prodotti abbiamo iniziato quindi a capire che dobbiamo misurare qualsiasi cosa siamo partiti dall'inizio a misurare ma abbiamo aggiunto delle metriche in questo modo aggiungendo queste metriche siamo riusciti ad avere delle risposte quindi poter dare delle risposte al nostro finance che ci chiede che cosa dove andiamo a spendere i nostri soldi ovviamente la nostra fattura cloud è importante perché noi abbiamo una grande dimensione di servizi cloud che stiamo utilizzando quello che a noi interessa è comunque portare una cost efficiency cioè riuscire a capire bene uno dove stiamo spendendo e due se stiamo spendendo bene e soprattutto se possiamo ridurre la spesa o dall'altra parte aumentare la qualità o aumentare il tempo di delivery to market il metodo il nostro diciamo viaggio che abbiamo fatto è molto semplice siamo partiti all'inizio grazie anche ai professional services e abbiamo costruito per prima cosa un'infrastruttura e quindi un'organization che ha copiato la struttura aziendale di Namirial quindi la nostra organization è la nostra azienda poi all'interno dell'organization abbiamo diviso ogni account e lo abbiamo taggato con la business unit all'interno di ogni account quindi ognuno di questi account poi ha una product line e alla fine anche abbiamo utilizzato le product category perché la nostra organizzazione è appunto business unit product line e product category questo viene poi riflesso nelle nostre SKU ovviamente per fare questo abbiamo avuto bisogno di chi questo lo sa fare bene e quindi finance il nostro reparto finance si è seduto attorno al tavolo con noi di operation quindi di cloud operation che siamo diventati nel frattempo il cloud center of excellence di Namirial ci siamo seduti attorno al tavolo assieme abbiamo deciso la nomenclatura noi abbiamo imparato un po' di linguaggio finance finance ha invece imparato un po' delle metriche che il cloud ha quindi come modelli di costo eccetera immaginate per loro la difficoltà di capire anche solo come funziona un tier di S3 non è stato banale dall'altra parte abbiamo avevamo anche il nostro business la nostra business leadership quindi i nostri C level che sono quelli che normalmente tracciano la strada quindi attorno al tavolo avevamo tutti e tre questi stakeholders quindi da una parte finance che è in mente il cost cost saving e cost optimization dall'altra parte business leader quindi i nostri C level quindi il nostro management che traccia la strada e dialoga con i clienti in modo da capire qual è il valore aggiunto per loro e da quest'altra parte del tavolo noi di operation il cui scopo è quello di portare il più velocemente possibile e in maniera più alta qualitativamente nuove soluzioni o nuove versioni di prodotto a disposizione dei nostri clienti ovviamente se volessimo pensare il punto di vista del finance finance direbbe sempre riducere il costo questo è normale immagino su tutte quante le aziende dall'altra parte business tira nel senso ci fa correre ci fa permettere di spendere noi dobbiamo essere noi di operation noi siamo in mezzo e dobbiamo garantire l'equilibrio tra queste due parti qui abbiamo qualche esempio di alcune dashboard la prima sulla vostra sinistra è la cost per unit questa è stata la prima che abbiamo creato mettiamo in relazione il nostro costo su quella product line con i nostri i nostri numeri di unità vendute su quella su quella product line qui parliamo di gigabyte oppure di documento in conservazione da questa se voi osservate bene c'è una linea blu quella linea blu è il costo complessivo della product line quindi quello che noi paghiamo è AWS e da questo grafico noi abbiamo capito qualcosa di veramente importante che non c'era non c'era balzato agli occhi prima e cioè che il nostro all'aumentare dei documenti il nostro costo non stava aumentando meglio qualcosa aumentava però non era proprio così lineare siamo andati a rivedere poi abbiamo visto i dati abbiamo osservato questo tipo di grafico e ci siamo accorti che la nostra infrastruttura non scalava in basso per un motivo semplice che era l'alta affidabilità di cui necessita perché noi lavoriamo sulla reg tech e i sistemi devono essere sono ben regolamentati quindi non possiamo non avere alta affidabilità non scalava in alto perché non aveva bisogno e quindi il sistema è fatto piuttosto bene però ci siamo accorti che ci sono dei picchi di costo a unità ciò significava che in quel momento non stavano entrando tanti documenti quindi per aumentare l'efficienza e abbassare il costo per unità la cosa più semplice che possiamo fare è aumentare il numero di unità vendute questo se ci pensate bene si traduce in una win-win sia per Namirial che per il nostro cliente perché noi possiamo aggredire più clienti a un prezzo un po' più basso i nostri clienti beneficiano direttamente di un prezzo più basso di costo a unità inoltre io ho potuto rispondere a delle domande fatemi sia da finance che da i business leader quando mi chiedono il forecast per il prossimo semestre per i prossimi x mesi o per il prossimo anno addirittura cose numeri che non riuscivo a dare prima di avere le dashboard adesso che abbiamo le dashboard con i nostri dati inseriti all'interno riesco a dare una stima non è precisissima infatti se vedete c'è un triangolo però è già qualcosa mi dà un'idea di quanto potrà crescere il nostro giro di affari la nostra spesa e il costo a unità un'altra cosa importante ne abbiamo altri grafici ma questi erano i più semplici e quelli più semplicemente anonimizzabili che è importante è il costo per servizio in questo caso se voi state facendo se voi avete un business come il nostro che si occupa di storage di documenti nel caso del sistema di conservazione la vostra spesa dovrebbe più alta dovrebbe essere il costo di storage quindi S3 o altri storage se invece il vostro costo è computazione probabilmente o avete sbagliato servizio oppure voi non state facendo storage come servizio che state vendendo ai vostri clienti quindi anche questo è molto indicativo siamo quasi arrivati alla fine del mio intervento il next step dunque la prima cosa visto che con LTA abbiamo visto che abbiamo potuto capire qualcosa che non era semplice senza dashboard quindi un effetto collaterale diciamo vogliamo tirare dentro su queste dashboard quindi sulla FinOps tutti quanti i nostri prodotti tutti quanti i nostri servizi in modo che probabilmente anche sugli altri servizi avremo le stesse caratteristiche quindi potremo abbassare il costo a unità e quindi far beneficiare non solo una media per le revenue più alte ma anche i nostri clienti con prezzi più bassi e oppure con maggiore velocità al time to market questo si traduce in una cost efficiency maggiore quindi non vuol dire che andremo a risparmiare probabilmente però o andiamo a risparmiare o avremo una qualità maggiore o avremo un tempo più veloce per dare nuove versioni e nuovi prodotti Dugis in fundo potevamo non parlare di generative AI no giustamente quello che vogliamo fare è dare risposte automatiche a finance e ai nostri business leader senza che io che il mio team che è operation e quindi ha in mente di portare nuovi prodotti in maniera più veloce nel mercato debbano impegnare tempo a spiegare a una nuova persona come leggere i grafici come leggere le dashboard cioè l'assistente l'assistente legge le dashboard per conto tuo e ti produce un executive report di facile interpretazione oppure puoi interagire con lui ed è questo è il prossimo futuro grazie dell'attenzione Marco grazie mille Mario per aver portato l'esperienza in Amirial appunto siamo quasi giunti alla fine io vi voglio lasciare con delle informazioni sulle dashboard qui trovate tre QR code io vi consiglio di partire da quello centrale quello centrale è una demo pubblica delle dashboard con cui proprio potete iniziare giocare giocare vedere un po' le dashboard come sono sopra quella demo se l'aprite dal telefono troverete un link che è quello che porta al QR a destra che è il workshop passo passo su come poi deployare queste dashboard ripeto tutte infrastrutture code quindi cloud formation terraform e in mezz'ora quelle foundation le avete tirate su e infine col QR code invece a sinistra trovate il nostro canale YouTube come dicevo prima è un prodotto open source abbiamo un canale YouTube dove trovate un sacco di video su come effettivamente utilizzare le dashboard come customizzarle come costruirne un top come fare delle vostre versioni e come insomma farle rendere al meglio vi consiglio di partire da quello centrale molto divertente giocarci con le dashboard detto questo se volete crescere diciamo le vostre skill sulla parte di FinOps l'hanno citato prima ma lo ripeto potete utilizzare Skill Builder Skill Builder è un prodotto gratuito di AWS che permette di arricchire le vostre conoscenze in particolare c'è un'area mi pare si chiama i finance la categoria c'è un corso di circa una ventina di ore sulla parte di cloud financial management che è fatto molto bene e ve lo consiglio se volete crescere le vostre skill diciamo su quest'area e niente abbiamo finito io vi ringrazio tantissimo questi eravamo io e Mario Veltini qui ci sono le vostre le vostre mail se volete scriverci per qualsiasi dubbio domanda se no siamo qua davanti adesso ci trovate in giro per qualsiasi dubbio grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti